Ecco la Simca 1100. Vi potete caricare una macchina per scrivere, un ficus, due gomme per cancellare, una sedia per ufficio e quattro cugine. Oppure una carrozzella, una mamma col bambino, la zia Berta, il pappagallo, pillole sedative e lo zio Frizzi. Oppure un corno da caccio, una tromba, quattro tromboni, un timpano, 267 flauti e due direttori d'orchestra. Oppure 17 valigie. E poi vi resta ancora un posto libero. Simca 1100. È quella che dovete provare.